e ora ne ho abbastanza è ora di finirla con questa buffonata Anna, perché non provi a rilassarti? presto, andiamo ora ti faccio vedere è in arrivo il mio colpo special e vedrai che sorpresi ottimo lavoro, brava vorrei contribuire anch'io alla tua miserevole disfattata ehi, mamma, hai visto? bene grazie a tutti